Ma questa è chiaramente una barca che deve essere impiegata quando ci sono le condizioni meteo assolutamente favorevoli. Peraltro bisognerebbe anche capire adesso tutta la dotazione di sicurezza, perché un altro grosso problema che hanno queste imbarcazioni è avere a bordo attrezzatura non particolarmente performante, insomma, sotto questo aspetto. E comunque, essendoci almeno 7-8 persone in più, anche laddove avessi avuto dotazioni di sicurezza, diciamo, regolamentari, è chiaro che ovviamente non avrebbe potuto affrontare l'esigenza di tutti. Quindi direi che si sono, insomma, arrischiati, cioè, si sono avventurati in una condizione veramente rischiosa sotto ogni profilo, insomma. E spiace che chi, insomma, che le persone a bordo abbiano deciso di salire nonostante la situazione non fosse probabilmente favorevole, però nulla toglie la responsabilità oggettiva di chi ha gestito l'imbarcazione. Ma, chi, ma, chi, data da uno senza patente, senza revisione, l'assicurazione non risponde. Quindi sarà il fondo per le vittime dei pirati della strada, non so che dovrà intervenire. E ancora non ci sono gli esiti dettosicologici. Eh, sì. Perché è un'altra componente che non sottoluterei in condizioni di questo tipo, perché se sei già uno che si mette alla guida senza patente un'auto mezza disastrata, è lecito ipotizzare che probabilmente non eri neanche particolarmente lucido sotto questo aspetto. Torniamo a una locale. Il codice finale rispetto ai crimini sulla strada, perché poi c'è la strada e un discorso, ma il problema grosso sono le sanzioni, perché il problema è quello, cioè la maggior parte di questi soggetti sa bene che alla fine della favola, la ramanzina, la tirata d'orecchie, la multa che non pagheranno mai, la maggior parte di un attenente non ha nulla da perdere, rimangono esattamente come prima. Perché la sensazione? Perché se ci danno una multa di un certo tipo e ci ritirano la patente, ce ne guardiamo bene dal violare quella sanzione che non giunge a termine. Ma questa gente non gliene frega assolutamente niente. Questo è il problema. Dottoressa Bruzzone, un vero e proprio mistero, tracce di sangue all'esterno della vettura. Probabilmente le sue, insomma, però al momento si sta ancora avagliando. Il problema è che ancora non è nota la causa di morte, quindi non sappiamo esattamente se questo sanguinamento sia poi effettivamente riconducibile alla causa di morte effettiva o se sia un parametro in più. Quindi è un, diciamo, obiettivamente l'ipotesi omicidiaria parebbe quella al momento da privilegiare, insomma, sotto questo aspetto. Perché una delle ipotesi alternative era, diciamo, il suicidio. La persona decide di... Guarda, in autovettura tipicamente il suicidio avviene perché il soggetto si autointossica chiaramente con il gas di scarico. Esatto, con il famoso tubo del gas. È abbastanza atipico che venga ritrovato all'interno del portabagagli anche se in condizioni, diciamo, astrettamente possibili. Però qui non parrebbe un'intossicazione da monossido sostanzialmente del gas di scarico. Quindi verosimilmente, insomma, è successo qualcosa di diverso. E se così è, è verosimile che il soggetto che ha ucciso questa persona abbia anche guidato la sua autovettura fino a portarla in questo luogo. Quindi l'auto è una scena del crimine primario a tutti gli effetti, insomma. E va trattata con estrema attenzione. Quindi le tracce di sangue, abbiamo detto, all'esterno della vettura, il telefonino, anche questo poi dovrà essere esaminato con attenzione, con particolare riferimento agli ultimi messaggi, le ultime telefonate e gli spostamenti, no? Degli ultimi spostamenti. Certo, assolutamente sì. L'epoca della morte parebbe compatibile al giorno della scomparsa. Quindi è successo qualcosa quel giorno, fondamentalmente. Poi, complice anche un po' la temperatura, tutto sommato, mite del periodo, l'odore della putrefazione si è sentito successivamente. Quindi lì ha segnalato che chiaramente la macchina poteva contenere altro. E purtroppo poi è stata fatta la macchina alla scoperta. Però lui è, diciamo, già significativamente compromessa alla salma. La stessa simpatica pratica di passare e cominciare a sparare in alto o contro le finestre o contro qualcosa, viene effettuata, cioè stamattina, a due passi alla prefettura. È un messaggio? Secondo me sì. Cioè la scelta della location in cui mettere in campo questo tipo di condotte scelerate non posso pensare che sia casuale. Probabilmente è un modo per testimoniare al territorio che evidentemente conosce bene chi c'era all'interno di quel SUV, o quantomeno può ipotizzarlo realisticamente. La macchina magari sarà rubata, ma gli occupanti... Esatto, che chiaramente quella è casa loro e che anche la presenza delle forze di polizia o delle istituzioni non li spaventa affatto. Questo credo che sia il vero significato di questa azione. Però io anche da queste immagini, dai sopralluoghi della... In questo caso credo è la polizia, non credo, è la polizia. Sono fiducioso che invece sapranno dare in tempi molto brevi un nome, eccolo qua, con la nostra inviata in diretta. In questo momento ora ci stanno ancora facendo i rilievi del caso. Tipicamente utilizzano armi che normalmente sono già rubicate. Quindi l'aspetto balistico qui è interessante. Quindi ho sentito che si è stato trovato anche dei proiettili oltre, diciamo, a dei bossoli. Quindi è molto importante perché la valutazione balistica potrà sicuramente dare delle risposte affidabili. È il tipo di messaggio, cioè il tipo di condotte, proprio in questo caso finalizzata a dare un messaggio di natura criminale specifico. Qui c'è la prossimità della prefettura. C'è probabilmente in quella via qualcuno che a questi soggetti evidentemente premeva far arrivare un certo tipo di messaggio e contestualmente facendo ben intendere che l'avvicinanza con le istituzioni non è un problema per raggiungere questa persona. Quindi è chiaramente un messaggio drasticamente criminale. Allora, intanto a me fa sempre paura quando vedo la mancata integrazione, mi fa paura. Quando vedo solo extracomunitari o solo italiani, chiedo perché non c'è un'integrazione diversa sul territorio. Stiamo avendo proprio questo, ed è esattamente quello che è successo in Francia vent'anni prima, abbiamo visto quali sono i risultati. Parlando con questi ragazzi, a me capita di lavorare anche su criminalità minorile, e molti sono extracomunitari, va detto, soprattutto legati alle stupefacenti. Molti ti dicono, ma guarda che qui in Italia noi non ci considera nessuno. Gli italiani non vogliono avere a che fare con noi. Quindi per noi è naturale creare gruppi che poi devianti via via verso la parte criminale vera e propria con persone comunque sia che non sono italiane. A volte anche interraziali, non necessariamente tra persone dello stesso gruppo di provenienza geografica, anche tra persone che vengono però non italiane. Quindi c'è un problema molto serio, nelle grandi città in particolare, che riguarda la totale mancanza di integrazione tra questo tipo di ragazzi, che sentendosi rifiutati, coltiva rancore e astio nei confronti chiaramente della popolazione italiana. Questo li separa sempre di più da possibilità che il nostro paese potrebbe fornire, sicuramente loro, e anche in maniera efficace, e li fa deviare verso un percorso di natura. Prima deviante, poi criminale vera. Qui ci sono emigrati di seconda generazione. Sì, ma anche terza. Abbiamo già quelli di terza generazione. E sono ancora più radicalizzati rispetto all'odio nei confronti degli italiani. Questo è il vero fallimento. Cioè anziché portarli a integrarsi e in qualche modo a vivere la nostra vita e stare insieme a noi, anche con i ragazzi italiani. In realtà molti di loro, non tutti per amor del cielo, ma molti di loro, soprattutto nei grandi centri urbani, in realtà è ancora più ostile nei confronti della popolazione italiana. Questi sono tutti i ragazzi che non hanno proprio... Per loro il qui e ora è l'unica cosa che conta, perché non ce l'hanno una progettualità, non ce l'hanno un futuro verso cui dirigere. Non c'è un domani, c'è più ora. E quindi questa è la condizione che davvero ti porta a non avere niente da perdere e ti trasforma in un'arma. Temo che non sia un passaggio di poco conto, che sia accaduto proprio a ridosso della segnalazione che sarebbe giunta ai genitori evidentemente in una maniera un po' più formale, perché se convoca i genitori a scuola vuol dire che comunque hai qualcosa che non puoi demandare una comunicazione scritta, vuoi incontrarli, vuoi segnalare una criticità. E lui guarda a caso il giorno prima scatena questa situazione. Mi pare una concomitanza temporale difficilmente casuale. Le abbiamo raccontate anche qui recentemente di vicende che hanno riguardato aggressioni commesse da studenti. Una mancata strage è avvenuta il mese scorso, quindi non è qualcosa che evidentemente può colpisce in maniera così, diciamo, arbitraria. È una problematica che si sta purtroppo diffondendo. La vicenda di Abbiate Grasso ne è l'ulteriore testimonianza. Io credo che sarebbe molto interessante parlare con gli altri ragazzi di quella classe, perché la pistola non era volta alla professoressa, era volta probabilmente a far sentire impauriti, a terrorizzare i compagni, che infatti quando hanno visto la pistola sono giustamente scappati via. Per fortuna in questo caso era una pistola che non era in grado di fare grandi danni, stavolta. Molti genitori non lo chiedono perché non sono neanche in grado di gestire una risposta che non si aspettano, che non vogliono sentire. C'è anche un po' una latitanza sotto questo profilo. Perché un preside che è costretto a fare una circolare rivolta a Omnia, quindi a tutti quanti, per dire semplicemente, guardate che siamo a scuola, non è una sfilata, non siete in discoteca, questo mi dice tanto dei ragazzi, per carità, ma mi dice soprattutto molto dei genitori di questi ragazzi, perché evidentemente è talmente diffusa la problematica da costringere un dirigente scolastico a fare una comunicazione rivolta a tutti, il che veramente mi getta nello sconforto più totale perché se neanche lì riusciamo ad arrivare a essere un minimo, diciamo, autorevoli sotto il profilo degli adulti e soprattutto esempi, esempi praticabili, allora vuol dire davvero che abbiamo devastato... La dottoressa Bruzzone, adesso sento subito anche gli altri ospiti, lei è convinta che, diciamo, quantomeno la pistola fosse... Io credo che la pistola, entrambi, che dopo che ha colpito l'insegnante probabilmente ha realizzato la gravità e quindi questo l'ha fermato sul proseguire la sua azione, verosimilmente ha visto il sangue e questo probabilmente l'ha bloccato, ma in realtà l'arma, per fortuna, ripeto, un'arma che non sarebbe stata in grado di fare grandi danni, non era rivolta all'insegnante, era rivolta ai compagni, tant'è vero che quando vedono l'arma tutti si allontanano, questo mi dice, come ipotesi di lavoro, che probabilmente questo ragazzino ha una storia da raccontare, non tanto favorevole o piacevole, ce l'ha. Bullismo, prevaricazioni? Sì, probabilmente prevaricazioni, magari non necessariamente che avvenivano in ambito soltanto scolastico, però ragazzi oggi ci sono i social, può avvenire veramente di tutto fuori dall'ambiente scolastico, anche se si generano le dinamiche lì, quindi io andrei un attimino più a fondo su questa vicenda, perché io ritengo che questo ragazzo abbia maturato un rancore profondo, che l'abbia portato a mettere in campo una condotta del genere, probabilmente temendo che, emergendo delle problematiche, venendo da conoscenza anche ai genitori, questo l'avrebbe posto in una condizione magari ancora più difficile, questo l'ha portato a sviluppare un'angoscia tale che purtroppo anziché elaborare, ha agito sul piano comportamentale. Temo che sia questo lo scenario. L'impianto appuntatorio non lasciava ipotizzare una richiesta diversa, io credo che ci sono tutti i presupposti per il gestolo, considerando la gravità di quello che ha fatto e quello che poi ha attivato successivamente all'omicidio e come ha pianificato l'omicidio, traendo la vittima in inganno, convincendola che fosse una sorta di snuff movie sui generis da vendere a un potenziale cliente, fingendosi cliente a sua volta, premeditato in maniera, a dir poco, sconcertante. Quindi questo signore si merita del gas, mi auguro proprio che se lo faccia tutto. Allora, le indagini in questo caso sono state fatte in maniera precisa, puntuale, sono state coordinate in maniera ineccepibile. Lei oggi presenta due narrazioni, due racconti. Il primo è quello di Iara, che è un'indagine condotta con un dispendio di forze e di energie mai visto prima, con un accanimento da parte della PM. Io la definisco determinazione. Determinazione, è più corretto. Anzi, ci augureremo tutti di avere sempre PM così determinato. Era un accanimento positivo. Cioè, quando al di là di difficoltà che sono enormi, la PM ha detto no, cioè io voglio il nome dell'assassino. Sì, sì, è andata avanti per anni, anche contro l'opinione pubblica, perché la dottoressa Ruggeri è stata fortemente attaccata in più occasioni e nonostante ciò non ha fatto mai un passo indietro e alla fine il suo enorme lavoro, insieme a tutti chiaramente coloro che hanno lavorato con lei, ha avuto come risultato un'inchiesta monumentale che ha fatto storia nel mondo delle scienze forensi mondiale. E nel libro, attraverso il processo, quindi attraverso tutto l'incartamento del processo e tutte le consulenze tecniche, io insieme alla giornalista Laura Marinaro abbiamo raccontato l'indagine. Quindi anche per fugare una serie di narrazioni alternative che non trovano assolutamente spazio dal punto di vista né scientifico né giudiziario. Quindi è un libro per chi è appassionato di questa vicenda e continua a seguirla, peraltro che ci continua a riservare sviluppi, mettiamola così, che poi in realtà sono molto meno sviluppi di quanto qualcuno vorrebbe far credere. E questo è un testo che effettivamente ti racconta la storia per filo e per segno, per capisaldi, quindi la scienza forense, le indagini e effettivamente il percorso giudiziario. Poi c'è un'altra storia, che invece è quella di Serena Mollicone, che è una storia molto più complicata. Questo è un libro che esce domani, insieme all'avvocato Nardoni, insieme stiamo lavorando per la parte civile al processo Mollicone. Non siamo d'accordo con l'esito del primo grado di giudizio, per cui riteniamo che questa storia debba avere un finale diverso. E nel libro La ragazza del bosco, la verità oltre all'inganno, il caso Serena Mollicone, raccontiamo esattamente come è andata, sia l'inchiesta che il processo, in modo tale che chiunque voglia approfondire questo caso in maniera estremamente chirurgica e dettagliata possa avere informazioni di prima mano affidabili. Con uno strumento. Noi siamo convinte che questa storia debba avere un finale diverso. Siamo convinti della bontà dell'impianto accusatorio e quindi andiamo in quella direzione. Allora, a proposito di procedere a una direzione, in tanti ci avete scritto dicendo ma che fine ha fatto Gisella, cosa sta facendo Gisella? Non lo sappiamo, però aspettiamo il 3 giugno. Riappererà sicuramente il 3 giugno, non ci sono dubbi che sarà nuovamente il 3 giugno. Torna a pare di nuovo. Sì, l'ha già anticipato. Ah, ok.